benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore della bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni ospite di oggi è tony thorinbert nato nel 1957 è uno dei fotografi di moda e di ritratto più influenti del panorama italiano i suoi scatti sono finiti sulle maggiori riviste di settore come rolling stone vog e details ed oggi anche formatore e founder della scuola thorinbert raggiungibile al sito www scuola thorinbert.com dove sulla home page campeggia una scritta interessantissima la seguente io non insegno fotografia uso la fotografia per promuovere l'unica vera necessità di ogni artista accettare se stesso prima di iniziare come al solito ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria consapevole money surfers dove dal 2010 insieme ad enrico garzotto insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato fidati cambia moltissimo ti ricordo anche che la regia è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile su giovanni meno valentini punto com che il nostro web wizard in studio è mario piccaluga fotografo raggiungibile su instagram chiocciola mario piccaluga e che studio beviamo solo caffè carnera e mi raccomando ragazzi se volete supportare questo podcast dovete fare solo una cosa iscrivetevi su tutte le piattaforme attraverso le quali lo ascoltate adesso però rilassati e goditi lo show ciao toni ciao grazie di questo fantastico regalo che ci hai fatto ad essere qui oggi anche se l'abbiamo detto all'inizio non hai fatto una grossa fatica per arrivare in studio no 150 metri forse neanche incredibile infatti il pucca per sbaglio guardando questo indirizzo sa che su google maps certo punto compaiono i vicini di casa se compare to in bel studio incredibile e sai che oggi mentre ero in macchina ho ascoltato alla radio una canzone nuova dei baustelle che si intitola milano e la metafora dell'amore e ci ho pensato mentre venivo qua di giocaspita però toni che comunque un fotografo che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo è partito dalla periferia milanese e poi ero curioso di sapere se ti faccio il riassunto della canzone la canzone parla soprattutto del fatto che milano ad oggi è una città avulsa rispetto al territorio italiano per vari motivi ovviamente il primo per motivi politici no una città super fluida super votata verso il futuro mentre invece la provincia e tanta italia più profonda e invece fosse arroccata su posizioni più conservate conservatrici mi domandavo ho visto che voglio dire tu hai uno sguardo d'eccezione come la vedi questa milano che è partita nelle tue foto da più altello dove abitavi e adesso invece la vivi perché abiti qua e allo stesso certo certo allora milano io si la amo e la odio ci ho vissuto ci vivo da quando il mio passaporto è svizzero ma io mio padre negli anni santa totale controtendenza con gli italiani che emigravano in svizzera tornò cioè dalla svizzera e migrò in italia e venimmo ad abitare qua vicino via farini ero molto piccolo tre anni e poi ci spostammo quando ero forse preadolescente ai confini tra cernusco pioltello due il pioltello più che cernusco era già allora era proprio un quartiere satellite cioè un quartiere dormitorio che tra l'altro né cernusco né pioltello oggi come oggi assomigliano più assolutamente a quello che erano negli anni settanta proprio primi fine anni sessanta inizio anni settanta particolarmente pioltello aveva diciamo una vocazione criminale abbastanza spiccata diciamo e sì no certo non so perché questo veramente è una cosa che non ho mai veramente capito oppure sì me la sono spiegata perché mio padre era il director alla carlo erba carlo erba è qua in via in buon anno e forse questa questa azienda che tra l'altro mi fa un po sorridere perché è un è un'azienda della famiglia di giovanni gastel e se il mio papà lavorava la vita la famiglia di giovanni e poi ci siamo anche molto divertiti su questa cosa io giovanni a suo tempo ma comunque è stato un caso questa cosa cioè non vi siete conosciuti poi tramite no no diciamo che io mi ricordo molto bene mio papà andò venne invitato a casa del conte a cernobbio mi ricordo questi io perché ho preso ho preso casa cernobbio ultimamente ok ok vedi dopo il conte e mi ricordo tra i pochissimi ricordi che ho della mia diciamo infanzia questo non ricordo benissimo ma c'erano gli camerieri in guanti con i guanti bianchi insomma veramente notevolmente bello e c'era questi prati che declinavano verso il lago così e poi con i danni o piedano che dal tornare un altro livello io dico non ho la casa piena della sua cernobbio ce l'ho molto più in alto credo che ce l'hanno loro e i versace l'hanno appena venduta non so e poi quell'altro americano e l'attore vabbè è comunque clune e come ricordo molto bene siccome io e giovanni avevamo un anno di differenza lui è più grande di un anno e scusa ti trovo carlo e adesso è villaerba se certo giuda villaerba adesso è dove fanno tutte le manifestazioni io mi sono vaccinato a villa ha fatto i vacci perché quella era privata ancora è arrivata no no una parte ancora privata solamente che è destinata come dire è a reddito adesso non so come si può dire perlomeno così mentre quando si è nato tu ci abitavano ancora proprio casa loro voi non potete capire cosa è villaerba è un istituzione a como tutti gli eventi più importanti vengono fatti a villaerba credo che adesso viene usata per questo fanno anche un festival del cinema fighissimo però era a casa loro e infatti ci siamo io mi ricordo andai poi dopo quando siamo diventati grandi sia io che giovanni poi abbiamo detto ma se io una volta mi sa che sono venuto a casa tua sai che noi avevamo avevamo un abbiamo fatto delle conferenze si chiamavano miseria e nobiltà io e giovanni e tu dici io sono miseria io non l'ho detto nessuno l'ha detto diciamo che andavamo in giro un po a raccontare la fotografia da punti di vista così un po diametralmente opposti solo apparentemente no perché poi la fotografia ci siamo riscoperti poi anche molto uguali nell'essere fotografi quindi sì dove eravamo rimasti a pioltello il te lo milano milano metafora dell'amore non so non saprei sai che davvero non saprei ma perché se ne sta parlando anche la settimana scorsa la selvaggia lucarelli ho visto anche anche il mio amico raibano hanno fatto un articolo intero si sta parlando da poi c'è stato quella brutta cosa alla stazione centrale quindi sta sorgendo alle note della cronaca questa ambivalenza di milano che comunque rimane sempre l'unica città volta verso il sì io la vedo io mi ricordo bene nuova york nella metà degli anni 90 e quello che sta succedendo qui è esattamente quello che successe forse ormai a quel punto 25 anni cioè decisamente adesso le persone come noi lo dico senza fare il conto in tasca nessuno è difficile vivere a manata così come sta diventando molto difficile vivere a milano e c'è una gentrificazione sempre sempre più forte diciamo perché sì la città e viene e diventa in diventa specchio di chi se la può permettere insomma sicuramente le case hanno hanno dei costi assurdi assurdi spropositati non solo per comprare ma anche per i giovani per affittarle è quasi impossibile sia un trend internazionale questo è c'è da dire quando si parla di milano poi questo accade in tutte le capitali europee mondiali sia anche barcellona ce lo diceva la guida no tutte c'è oramai è un trend è quello tra l'altro prima che iniziassimo a registrare abbiamo parlato di questo condominio che abbiamo di fianco fantastico per assesi questo bianco bello sto all'americana anche qua esatto in un quartiere che voglio dire siamo a china town e qua abbiamo nord c'è un quartiere con questa veramente nuova era di abitazione abitanti di milano che non sono neanche nemmeno italiani perché secondo me chissà quanti saranno gli italiani che abitano lì non lo so dell'idea quasi che milano sia stata è in una fase in cui sta diventando veramente una città internazionale anche negli abitanti c'è tanta gente dall'estero non so se me lo puoi confermare no te lo confermo assolutamente perché io ho abitato diverso tempo a china town invece proprio nel cuore di china town parte che io mi ricordo china town quando abitavo in via losana con i miei avevo sette otto anni e sembrava veramente lei cioè la rivoluzione di mao cioè gli immigrati cinesi sembravano quelli da rivoluzione culturale tutti vestiti di blu uguale e portavano tutti dei sacchi enormi adesso girano con dei bmw che io ho mai visti non si può neanche li producessero tra l'altro ieri no l'altro ieri sono andato a vedere un film quello come si chiama l'ultima notte dell'amore film con pier freddinando francesco freddinando casini e rocco buttiglione e parla non lo spoiler però diciamo che è lui che insomma a che fare con la mafia cinese e quindi si vedono questi cinesi ricchi che sono un po hanno anche molto lavorato devo dire certo quelli non si sono fatti cioè non hanno fatto vacanze cioè quindi forse anche se hanno accumulato beh anche solo i metri quadri i metri quadri che hanno comprato qui anche solo rivenderli adesso si sono sistemati tutti se ci pensi pensa che una volta dunque per una pubblicità avevamo bisogno di un una pubblicità di auto però quello che noi serviva per la foto era un calligrafo cinese c'è una comparsa che potesse far finta di essere un calligrafo e quindi naturalmente la produzione lo andò a cercare a china town signore di una certa età possibilmente ma venne fuori che nessuno lo voleva fare perché avevano paura che vedendoli poi nei manifesti andassero a bussare a casa la mafia e prendere la loro pa e diciamo richiedere la loro parte di compenso questo ha spiegato certo e che e poi alla fine venne troviamo qualcuno che era padrone di diversi ristoranti a china town e quindi fosse lui non aveva era il boss probabilmente non l'ho detto però evidentemente non aveva quel tipo di preoccupazione lì beh è banale dirlo però quel film lì grosso vai c'è nata un capolavoro assoluto di che zi me chi se capitano di carpenter un po di verità ce l'aveva insomma mondo misterioso che abbiamo qui di fianco non c'è più oramai secondo me ma scritto e milano è ancora un posto dove si possono fare le foto interessanti come quelle che hai fatto quando hai iniziato tu delle foto neorealisti poi io meno che mai cioè forse se viene qualcuno da pechino viene cioè bravo è una cosa che mai i brividi ormai per me milano non è non è una scoperta invece la fotografia deve mantenere sempre un lato di scopere di scoperta sai che io non scoppia niente con la fotografia non c'è molto senso di usare la fotografia no interessante perché mi risuona su una cosa che è successo a me io abitato all'estero a bruxelles e a un certo punto nei primi anni di instagram e facevo dei post di instagram con delle foto di bruxelles che mi io trovavo super ispirante bruxelles capito una città che nessuno ci va nessuno vado a fare delle foto bruxelles perché sai è una città invece i miei poi amici di la migliora ma tu sai trovare dei punti che mi fanno re innamorare della mia città la stessa cosa loro quando venivano in italia in puglia fotografavano dei benzinai della puglia cioè io ho questo come quando io sono andato in mezzo delle foto cazzo ha fotografato un benzinai ma parada io non l'avrei mai la stessa cosa che ho fatto io in messico in messico fotografi i benzinai perché vengono bellissimi anche io in puglia ho fatto molti benzinai si vede che la puglia porta c'è un benzinario famoso in puglia dove io avrò scattato centinaia di migliaia di foto ancora e se torno lo farò c'è un benzinaio su non mi ricordo quale bretella che c'ha un cristo enorme una statua di cristo gigantesca ma gigantesca intendo forse salta 5 6 metri quindi è veramente grande e io chiaramente tutte volte siccome sono passato molte vacanze in puglia mi fermavo al tramonto all'alba di notte a cercare di mettere assieme sto benzinaio e sto cristo ma da che parte della puglia che io sono pugliese se la zona dei trulli a valleditria e dove anch'io vado non so metà puglia c'è metà puglia quindi milano non sapresti dove incominciare perché oramai allora mi è piaciuta mi è piaciuta in alcuni anni in alcuni periodi mi è piaciuta poi non mi è piaciuta più poi sono andato a vivere in toscana poi sono tornato mi è piaciuto diciamo prima il vicino di casa di oliviero no no non vicinissimo però non vicinissimo ci vivo a milano sicché è un po difficile parlarne come qualcosa di che sai come parlare del proprio dito sai posso parlare del tuo certo perché lo scopro vedo qualcosa di nuovo adesso mi piaceva abbastanza prima del lockdown c'è stato un momento dopo l'expo e prima del lockdown che davvero mi sembrava ci fosse una grande una grande fermento un fermento che non escludeva le persone adesso mi sembra questo fermento è cambiato e tenderà inesorabilmente a allontanare le persone che producono fermento quindi in questo andrebbe un po pensato ma è inevitabile temo perché business is business anche perché c'è per esempio sto pensando a new york new york aveva la fortuna di avere avanti brooklyn che erano quattro fermate di metropolitana era fatta adesso anche gentrificata pure brooklyn è un po si devono andare a new jersey che non è proprio diciamo non ci siamo appena passati per definizione la tristezza più totale tu l'hai detto in un'intervista aspetta cosa che avevi detto ah sì che non ti giuro non l'ho fatto apposta sto gancio in questa video visto su youtube che dicevi che a new york quando sei arrivato perché hai vissuto anche negli stati uniti per ritrovare un po il mood come dire popular si è andato in new jersey una roba del genere se già se andiamo a fare dei sopralluoghi io il mio assistente per un servizio e finimo in una pizzeria dove ci mettiamo a parlare inglese lui americano per non farci accorgere che eravamo tutti e due di origine italiana perché godevamo del fatto che i due ragazzi pizzaioli parlavano italiano anzi dialetto stretto e parlavano delle partite appena successe la settimana prima in italia come se fossero in italia cioè loro erano catapultati in new jersey pur essendo totalmente in italia cioè rimanendo completamente in italia cioè completamente impermeabili al all'america forte ma come l'hai vissuti tu gli stati uniti che periodo era quando eri lì metà anni 90 diciamo da 94 al 99 in quella in quella aneddote che raccontato una cosa che mi ha colpito molto è stata la parte in cui dici che te ne stavi per tornare in italia perché tu sei andato per proporti perché qualcuno che aveva mandato qualcuno un certo peter lindberg volevo che lo dicessi tu perché volevo che lo dicessi no certo perché qualcuno c'era un tizio che se incontri uno per strada no ma tu devi andare in America magari ci pensi due volte certo se lo dice lindberg poi dopo c'è anche la versione quella che lindberg lo dice a tutti perché non c'è niente così te ne vai subito si libera per togliere la concorrenza no andate in America no ma anche per togliersi dalle scatole uno che va lì a parlare dice le mie foto ah vai guarda bellissime vai in America capito perché se incomincia a dire beh certo questa è meglio di questa no si ingaggia una discussione può durare anche un'ora invece vai bellissimo vai in America dopo dopo proviamo con le mie foto e vediamo cosa fa però è emozionante il fatto che tu te ne stessi per tornare in Italia e all'epoca non c'era un cellulare ancora e poco prima di abbandonare la tua camera d'albergo ti ha squillato il telefono tu avevi fatto il giro delle sette chiese per proporre le tue immagini e ti ha chiamato details che è una delle riviste più fighe del perché ho l'impressione che in America le cose succedono come nei film qua meno qua come nelle commedie forse invece là come nei film quelli fighi o sai quelle cose il sogno americano il sogno americano cioè che tu stai lì ecco effettivamente questo è veramente abbastanza incredibile io guarda adesso gli oscar li hanno vinti delle persone che non si capisce che cazzo sono e questi hanno fatto il primo film oscar o 9 oscar c'è ancora adesso succede se si succede succede a un prezzo a un prezzo perché l'ho pagato anch'io a suo tempo e peggio mi sento oggi lo paghi carissimo immediatamente cioè voglio dire che il mainstream ti fa gocita immediatamente cioè io non saprei se certo da una parte america ti dà tanto in termini di visibilità e anche perché no di soldi certamente e soprattutto è estremamente meritocratica e quindi tu quando fai bene ti viene straordinariamente riconosciuto e questo onestamente citami qualcuno a cui non fa piacere però il prezzo a pagare la tua creativa e la tua identità creativa e io seguo per ragioni di curiosità ma anche di didattica seguo tutte le nuove promesse della fotografia specialmente nel campo della moda eccetera e seguo su instagram abbastanza diciamo come vi seguo per lavoro cioè non così tanto per è veramente incredibile vedere come straordinari talenti vengono nel giro di 3 4 anni completamente annullati nelle loro caratteristiche riportati diciamo a confezionare fotografie ben confezionate ben architettate però ormai lontanissime dal loro dalla freschezza della loro partenza e quella quella cosa lì l'america è così a mio a suo tempo io l'ho verificato su di me cioè chiaro che all'inizio è esaltante l'america perché anche se io devo dire mi sono mai esaltato così tanto perché venendo da pioltello a me sta cosa degli americani cioè mi davano anche fastidio avevano troppi mezzi poi io ho un problema credo psicologico devo parlarne prima o poi con qualcuno che non amo l'abbondanza cioè io non so un supermercato americano pieno di 60 volte quello che l'uomo necessita mi irrita mi non mi piace è pornografico è pornografico capito io mi confezioni 65 marche di una cosa uguale non mi piace e anche persino nel mio frigo mi piace non mi piace quando straborda la roba non so ma capisco che è un mio problema però la per dire quello che noi facciamo in italia con un van un autista van fiat ducato la ci vogliono due motorhome capito però bisogna poi parcheggiarli questi motorhome quindi vuol dire che tu devi aver chiesto i pari i permessi per parcheggiare due motorhome lunghi non so 60 metri neri con i vetri neri sembra un'astronave così quindi vuol dire che tu devi aver già pensato dove farai le foto questo non è strano di per sé però non puoi cambiare idea perché non puoi dire a caspita quando abbiamo fatto il sopralluogo qui era bellissimo adesso c'è il sole dobbiamo andare da un'altra parte e dove vai costi così come disse copola nel film bellissimo di sua moglie su apocalypse now eravamo troppo equipaggiati avevamo troppo soldi avevamo troppi mezzi e finimmo per perdere la testa quando fece l'apocalypse now cioè troppa roba tt in cespichi nel nel troppo capito e se come da da super creativo quale sei questo può essere un impedimento nel freddo nome enorme perché io figurati poi io all'epoca lavoravo con una rolle che ha la manovella proprio e usavo scientificamente dei flash da pochi dollari che non partivano il più del tempo no giuro facendomi anche star malissimo perché non è mai bello perdere immagini ma perché lavoravo così lavoravo proprio per decostruire i modelli che facevo molta moda e il mio modo di fare la moda era di rendere queste facce da schiaffi il più veri possibili ma il modello americano è abituato a fare e magari è bellissimo però è abituato a fare dei cataloghi posando cioè avendo un'attitudine che a me non serviva per niente anzi era l'opposto però sai non è che glielo puoi spiegare devi atteggiarti in un modo come che le foto non stanno venendo quindi quella dopo un po si dimenticano che stanno lavorando e pensano vabbè ciao la giornata andata a me questo qui chissà da dove viene con sta macchinetta con la manovella capito e quindi perdevano fiducia in me e questo era la mia chiave di ingresso nella loro nella loro autenticità capisci ma lo facevi volontariamente cioè non ti pesava questo alla fine pesava enormemente dopo un po mi stavo ammalando questa cosa anche perché no nel senso che certo anche lì è un prezzo no perché è un prezzo perché poi questi due motorhome tutti questa gente catering stellato tipo michelin tutta questa roba cosa non è che la pagavo io però ti senti no il peso di questa produzione e tu stai rischiando tutto per un autenticità che non non riuscireste ad ottenere diversamente cioè a me ehi attenzione a me quando autentica autentico no che fa finta di essere autentico è cioè mica mi freghi però che si soffre e man si soffre anche comunque se non ci fosse una produzione perché comunque lavorare in quel modo vuol dire entrare in una zona di non comfort cioè dove tu puoi perdere tutto sempre e questo infatti sono uscito per qualche anno poi sono sincero era molto difficile ma quello che ho notato all'inizio ovviamente come la favola meravigliosa di me che piegola le mutande per andare in italia e questo chiama e dice ascolta sono due giorni che penso le tue foto vieni qua io ho cambiato il volo sono andato poi ho cominciato a lavorare e quindi come dire pensa se non ero in casa in quel momento incredibile come nei film però il prezzo di quella roba lì è abbastanza alto perché loro non gliene frega niente della di te lo dico magari male però non gliene frega a loro gliene frega che tu risolva creativamente delle cose per loro e che tu le innovi ma dopo un po di questa innovazione non sanno che fare sempre che a loro interessa un'innovazione molto estetica che possano spacciare per qualcosa di nuovo ma che alla fine la buona vecchia storia che loro devono vendere qualcosa e sempre lì no quindi se mi ricorda molto io sono più esperto nel mondo del cinema che della fotografia ma è uguale cioè nel senso che loro fanno di un'arte un'industria che da un lato sicuramente gli ha permesso di fare cose anche elaborare delle professionalità incredibili che tra l'altro avevamo nel cinema avevamo anche noi in italia ma anche nella fotografia e abbiamo perso completamente mentre loro ancora ce l'hanno allora questo che dici è verissimo trasformare un'arte in un in un'industria infatti si chiama the industry cioè la fotografia commerciale e pubblicitaria editoriale gli addetti era voi la chiamano dell'industria scusa se ti interrompo c'è questo serial che sta andando di brutto di cui non mi ricordo il nome che è parla della produzione di del padrino non so se l'avete visto ma che bello ed è solo dei retroscena della produzione di quest'ante e che perché ti racconta proprio quello di cui stiamo parlando adesso cioè ed è incredibile come quello che dici tu in realtà ma che si chiama the offer the offer guardatelo e la cosa bella del film è che racconta la maniera in cui questo impero che è stato così in realtà poggia spesso su di piedi d'argilla capolavori incredibili come il padrino sono nati per sbaglio prendendo uno che siccome c'è talmente tanti soldi a volte succede anche quello quando c'è tanto capitale e come quando non so nel caos perché anche un po quello no gli stati uniti tante possibilità tante professionalità a volte mischi le carte esce fuori per sbaglio anche una roba come il padrino io ero rimasto colpitissimo perché in america mia tipo tu eri quello forse quella scheggia impazzita ma io mi aspettavo tipo capitola mi aspettavo la svizzera in america c'è la svizzera c'è svizzera noi in america anzi noi italiani siamo più svizzere che gli americani dove noleggiavi le luci dove noleggiavi le macchine tutto la produzione appunto un servizio così era un disastro c'è america tutta sgarrubata qualcosa di impressionante io rimanevo basito siamo andati la roba era tutta rotta cioè capito e tu pensai ma come fanno questi ma poi dopo ho capito fanno così che se ti serve un faro ne prendono quattro a di sì ma per forza io avevo quattro assistenti mai avuti a me in uno qua ma non è sempre bastato avanzato due quando facciamo proprio le produzioni appunto hollywoodiane la quattro minimo perché uno non sa fare niente l'altro neanche l'altro quasi in quattro fanno uno capito ma quattro fari tre sono rotti finalmente uno lo usi andiamo adesso se c'è qualche statunitense lo salutiamo lo abbracciamo però purtroppo guarda che è vero siamo andati io e questo mio amico siamo spena tornati appena un mese fa dalla costa rica così c'è da volo in new york costa rica ma l'america è il costa rica costa rica se l'america l'aeroporto l'aeroporto di outland perché l'aeroporto di new jersey in confronto sembra singapore in confronto a quello di outland è uguale a quello che hai detto tu per controllare i bagagli in boston quanti stati 45 persone di cui 40 al cellulare quattro che ti guardano era una babele incredibile era un caos più totale chiedi a più persone scuse me there is a pharmacy here in the airport e ti guardano senza rispondere pharmacy ok no problem vai da un altro una lentezza una eppure come cazzo fanno a dominare il mondo ancora interessante credo per una questione di massa cioè la massa è come un tir che deve frenare cioè la massa ti spinge però effettivamente sono tanti e poi per esempio anche lì ci viene in aiuto il fatto del denaro cioè per esempio io all'inizio ero sconvolto perché non sapendo dove parcheggiare sti due benedetti cosi enormi pensavo ma adesso io come faccio perché ragionavo senza soldi invece loro dice ma tu prenota in tutta new york dico ma costa e ma chi se ne frega hai capito allora tu dicevi quasi era un gioco dai allora prenotiamo per due motorhome e tre pulmini qui 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 e qui ok dai va bene vediamo quando dicono di no al sessantesimo parcheggio toni magari this is too much vabbè dai buona stiamo con 50 cioè no e lì è chiaro ma noi andavamo con l'aero a tipo mi ricordo a d'accapulco andiamo per mademoiselle a fare un servizio e col mio orrore spendemmo 2000 dollari in messico con un troll in un supermercato solo di cicche cicche perché ti servivano come cicche lattine di cose strane ovviamente qualche coca cola cioè che noi dopo tenevamo nel cofano della macchina e regalavamo in giro non sapevamo dove mettere questa roba e io dico ok in fondo stiamo mollando 2000 dollari qua magari va anche bene e anche regalare le lattine di coca ai bambini al distributore va bene però io non pensavo che eravamo venuti qua a fare la beneficenza pensavo che eravamo venuti qua a lavorare così nacque il carnevale di accapulco con lancio di dolciumi allora è logico e quella dimensione lì si impara in un qualche modo ma adesso negli stati uniti com'è il mondo della fotografia io manco da fortuna felicemente perché io poi sono tornato veramente devo dire con felicità dall'america perché ho dovuto poi magari ci avrò messo del mio per carità però ho dovuto constatare che la mia felicità creativa era duramente compromessa diciamo devi avere forse a me manca o è mancato l'ambizione del denaro cioè a me del denaro non posso dire che non me ne frega niente anzi sono vittima del non fregarmene niente del denaro però non è mai stato il mio motore quindi se non hai quel motore lì in america diciamo la verità soffri perché se tu invece dici sai cos'è io mi vendo però poi mi coprono d'oro vivo a per state new york ma io non sai che mi ricordo lontano anche da questo ricordi lucio battisti che a un certo punto era in europa e lì c'è adesso andiamo negli stati uniti che e lui rispose famo de no sì famo de no perché lui dice ma no un altro che ha detto famo de no è al modo var per esempio al contrario di win venders win venders si ha una carriera divisa in due prima dell'america e dopo l'america per carità non sta a me giudicare o dire che dopo l'america win venders ma credo che sia lui il primo a dirlo cioè che mettersi dentro il meccanismo il famoso ammet il film che doveva essere il più bel film del mondo è venuto un film atroce per sua stessa missione non lo sto dicendo io perché strangolato da come dire dall'idea produttiva americana e anche del cinema che deve dire le cose in un certo modo cioè l'america produce foto e film film e foto che devono essere concluse al loro interno cioè non ci deve essere una possibilità interpretativa ok cioè c'è il film americano è solo un film che inizia così e finisce così mentre noi in europa i francesi lascia perdere non sai neanche di che cazzo parla pensavo dicessi la chapelle francesi la chapelle esatto la chapelle che non è noi facciamo film dove spesso ce ne sono dentro cinque o sei di film o ci sono cinque o sei finali che tu puoi forse indovinare invece la no per carità metà del film pensi dai mica male sto film poi quando attaccano che tutti chi ha ucciso deve morire questo di andare in galera questo deve rinascere è ancora così anche nel mondo della fotografia dell'immagine in generale è ancora così o queste differenze di di stile esistono fra nazioni perché voglio dire viviamo in un mondo dove c'è io posso connettermi a vedere vivere parlare con uno che sta a calcutta come quella iper mega globalizzato boh mi domando ma anche l'estetica ne soffre o ne gode di questa iper globalizzazione oppure no esistono delle differenze ancora cioè nella fotografia dico è lo stile di un italiano è diverso da uno stile perché vediamo tutti gli stessi film siamo tutti sugli stessi social tutti gli stessi influencer io ho quest'anno alla raffles avevo uno studente indiano è bravo un ragazzo di grandissima sensibilità però per esempio dall'india all'europa il gap c'è ma non è un gap è un gap diciamo di confezione ok non di sensibilità anzi lui è una persona come dire più a più a pelle più aperta che non noi però magari in termini di confezione non c'è quella diciamo quel savoir faire che noi sono decenni che confezioniamo roba insomma sì ma poi secondo me non è solo un fatto come dire tecnico di apprendimento è anche proprio il posto in cui sei cresciuto in fondo ti forma forma un po il tuo modo di guardare il tuo modo di interfacciarti no e quindi c'è un po quelli quell'italianità nel far le cose quell'americanità beh noi siamo vittime della bellezza cioè l'arte la creatività italiana e l'arte diciamo l'arte e la creatività italiana la fotografia perché no è vittima di due cose della bellezza e della mamma cioè la mamma la mamma è la mamma è la comfort zone per eccellenza no quindi in un certo senso quando quando la mamma come dire domina la scena in questo modo è chiaro che no manca quel pericolo in mente totti che non è mandato via da roba è capito è capito quindi ti e poi la bellezza è vero cioè noi abbiamo la bellezza questo è una cosa straordinaria ma anche un limite in una qualche maniera no perché invece per esempio nella fotografia o per dire nell'arte contemporanea non si parla più di bellezza da mo da Andy Warhol in poi cioè ne frega più niente anzi la bellezza è vista anche con un po' di sospetto esatto ne parli è un pattern che si è riverberato nelle varie puntate che stiamo facendo per chi si occupa più dell'aspetto legato all'estetica e anche della comunicazione quanto sia bizzarra un'epoca come quella che stiamo vivendo dove quasi la confezione la cura la bellezza sia d'intralcio alla capacità che ha un contenuto di essere veicolato è quasi come se la ci fosse dietro un lavoro che mistifichi la realtà e che quindi la renda meno diretta e quindi meno accattivante e quindi impostata e quindi falsa e quindi in qualche modo mi vuoi intortare no te lo dico perché da esperto tra virgolette di marketing ho notato che se io faccio un video strafigo non si cura nessuno mi metto lì faccio un selfie in mutande e dico ragazzi mi sono rotto i coglioni oggi boom virale incredibile questo è così è così poi sai diciamo appunto il problema è io chi sono come mi muovo ho capito in fondo l'importante per un creatore non è tanto sapere o non sapere questo quanto essere fedele o meno a se stesso poi alla fine si risolve un po' in questo no? quindi tanto i capello al modo var che nonostante credo gli abbiano promesso mare monti lui in america non è andato perché cosa fa in america al modo var non può che fallire ma la tua storia è simile cioè tu sei andato sei tornato perché avevi voglia di esprimere cioè allora che cos'è per te faccio una domanda classica non le faccio mai però mi viene proprio spontaneo cioè per te cos'è l'atto di fotografare se non è una se non è una roba che ti serve per fare i soldi non è una roba che ti serve per diventare famoso che cos'è io lo definisco il più grande atto di seduzione ma non del fotografo è la fotografia che è un atto di seduzione detto questo non mi hanno spiegato niente come ovvio però per me è questo una volta mi chiese siccome comunque vabbè ho fotografato tante modelle anche famose tutte quelle pipili e mi hanno detto mi ricordo quale è stata la tua musa e ho detto ma veramente la mia musa è la fotografia bellissimo la fotografia io sono innamorato di lei ed è lei che mi che risponde a ciò che io desidero capito poi dopo mi sono servito di quello che avevo davanti per 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 raccontare me stesso alla fine attraverso quello che fotografia quanto è importante per te lo stato d'animo d'animo che hai mentre fotografi cioè che qual è lo stato d'animo che ricerchi quando sei stai facendo uno shooting ma guarda allora diciamo questo e se sei capace di ricrearlo oramai lavoro dell'attore credo a me mi ricorda questo pur non essendo un attore però insomma è che tu puoi essere completamente fuori dalla parte e poi quando fanno ciak bam sei in quella parte lì perché quella parte lì e sei tu in quel momento anche se magari cinque minuti prima non so potevi essere un altro tu no e la fotografia l'agire della fotografia porta con sé per me un'energia e una cosa che è quella e io mi ci ritrovo bene là dentro anche se ho sempre il pathos cioè quando devo iniziare a scattare mi chiedo sempre cosa succederà ma anche perché io diciamo cerco di lavorare senza rete dentro questa cosa sai anche lì è come un attore no l'attore che lavora con la rete imita un'emozione se tu invece la vivi con l'emozione lì sai come inizi ma forse non sai come va a finire e mantenere questo non sapere come vanno a finire le cose è eccitante secondo me quindi è più uno smarrimento che una totalmente una perdita totale di sé dell'ego io dico una cosa certo un fotografo come ogni artista forse come ogni persona l'ego ci spinge alle volte no ci porta anche avanti vogliamo avere dei riconoscimenti è giusto abbiamo ambizioni però certo una cosa che non devi portarti dietro quando fotografi è l'ego è l'unica cosa che ti che si mette davanti a te il tuo soggetto è l'ego e qual è un trucco che c'è per fare questo esiste la possibilità godere cioè perché dai tutti non ci credo che uno nasce come fotografo all'inizio un po' di ego ci deve essere vuoi far vedere le sue opere un minimo no no questo è un'altra cosa dico proprio nel momento del fotografare ti devi mettere come si fa perché vale in tutti i lavori credo che sia una capacità di perdere cioè accettare fino in fondo la possibilità di non farcela o di non farlo o di perderlo o di non averlo e noti una corrispondenza della qualità del tuo lavoro rispetto alla quantità di smarrimento che hai vissuto certo logico sì dopo e non senti quasi cioè che emozione provi quando accade questa cosa è positiva oppure misteriosa dire sembra quasi che non l'ho fatta io se foto cioè perché quando ti perdi è l'opera che si fa attraverso di te l'opera si fa ed è sicuramente l'opera si fa e tu lo capisci perché si distacca completamente dal resto cioè nel bene io sono arrivato a dire io non sbaglio mai una foto è impossibile è un assunto perché non sbaglio mai perché qualsiasi errore tra virgolette io faccio non è altro che lo specchio di me in quel momento quindi come se sono io in che senso è sbagliata sbagliata in cosa e ti è mai invece capitato di giudicare un'opera che hai fatto da scartare o comunque non all'altezza delle tue standard invece ritrovata incensata in giro beh questo è veramente un classico diciamo le foto più brutte che hai fatto sono quelle che hanno ottenuto più più capito specialmente nei clienti nella pubblicità faccio veramente fa un catalogo che pensi madonna questo ok allora è un podcast quindi è venuto così così ci siamo promessi di non farlo troppo è difficile fare un podcast di foto senza fare delle foto però adesso possiamo fare un'eccezione quindi dici una foto che ti faceva cagare che invece ha avuto successo calmoloso tanto non ci ascolta nessuno faceva un 2000 views no ma ci sarà un no ma allora no quella di armani e ti è piaciuta quella è famosissima allora delle foto che io veicolo così non c'è niente allora io mi sono sempre ripromesso e non l'ho mai fatto torniamo alla questione dei soldi non ho mai lavorato per soldi ho lavorato solo due o tre volte all'anno per soldi cioè mi davo un limite perché l'occhio si sporca allora io come dire accettavo qualche volta di fare specialmente magari qualche catarico feci ma durò pochissimo rapporto con la germania nella moda non eravamo fatti per stare insieme e anche perché loro io tipo scattavo a parte che diciamo è famosa questa cosa ridiamo io e la mia ex agente che si occupava della germania la susan zoller che sta a zurigo adesso non fa più la gente lei diceva sai io facevo un po fatica con i clienti tedeschi perché dovevo dirgli che tu la mattina non fai le foto e come non fa le foto cioè il cliente dice noi lo paghiamo dalla mattina perché la mattina lui non le fa e lui non le fa perché la mattina non se non se la sente non non gli piace la fare le foto la mattina prima donna ragazzi allora già quel ma dopo io il pomeriggio ero velocissimo perché come dire nella luce che mi piace divento velocissimo per cui ero ancora più veloce quello che pensavano loro no per cui facevo queste foto e bon magari mancava un'ora alle 6 allora rimettevano le modelle coi vestiti che avevo già fatto tre ore prima e io pensavo abbiamo già fatto è perché è un po allora allora hanno pagato senti se manca un'ora non è che mo andiamo a casa sfruttiamola quest'ora no rifacciamo ma stamattina erano venute bene perché stiamo rifacendo allora non andava bene allora lì effettivamente ci sono delle fotografie che magari fai oppure per esempio se proprio non vai molto d'accordo con il soggetto poi dopo si impara a andare d'accordo più che altro con se stessi dopodiché il soggetto a quel punto se ci fai d'accordo meno non è così rilevante capito quindi e poi finisce che ci fai d'accordo lo stesso ma io mi ricordo che avevo fotografato la carra adesso è bruttissimo a dire perché non c'è più e dopo vabbè ma era una di humor grazie alla carra cioè puoi dire quello che vuoi se allora la carra io la trovai detestabile tanto è vero che la fotografa è per un giornale volevo morire volevo morire non mi piaceva venne una foto atroce con lei aveva delle ginocchia enormi non seppi assolutamente come prendere venirne a capo lei era antipaticissima cioè tanto io che dopo questa foto non so perché mi proposero di fare addirittura la campagna fotografica della scavolini cioè una pubblicità importante anche diciamo economicamente io dissi no 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 non voglio mai più avere a che fare con lei caspita e chissà perché cos'era successo boh chimica sì chimica ma romagnola allora tu non ci crederai toni ma è già passata un'ora se ti va anzi ti obblighiamo perché comunque ci sono delle carrambate esatto visto che parliamo di raffa è vero è vero cavolo delle carrambate da tirare fuori nella seconda parte di questa intervista che devo dire già mi dà l'idea essere interessante ti ringrazio toni per questa per facciamo poi un secondo episodio va bene ok ciao questo è il balzare atomico alla seconda parte